Pesca Aita per Top or Flop, eccola! Ecco fatto! Pensate che è venuta senza fidanzato, eh? Per cortesia tenete i due direttori di campo e incatenate il vice sindaco Pesca Aita, sei pronta? Lei è pronta? Tu sei pronto? Io ho sfumacciato? Ho tolto gli occhiali a Mino Eccola qua! Il canocchiale lo usa quando fa spesso quel ragazzo Che farei vedere la faccia di Mino io? A pro rompenza non possiamo dire nulla, eh? C'è Rino che mi guarda con una faccia da maniaco Eccola Minia, stai affogando! Che? Ari, eccolo? Ma questo l'hai caffittato? Non sapevi che a palmo e bici dicono Minia, stai affogando! Bella! Brava! Panini non sarebbe mai affogato Ciao papera! Allora Puoi rimanere qui Tanto oggi gli abbiamo mandato il messaggio Poi vi diciamo quale messaggio abbiamo mandato Tutto il concorso abbiamo mandato il messaggio al suo ragazzo Allora L'eleganza Otto La simpatia Nove e mezzo Dieci ma non avevamo dubbi Dottor Titta Ci lo dica È indeciso Nove 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 Quindi Dicevo prima Poi mi hanno interrotto Se dovete prendere 36 e 50 Giusto Autorizzazioni Anita Dovete andare così Da dottor Titta È inutile che vi presentate in jeans Perché tanto A Samuele Lombardo